Buongiorno a tutti, sono Susanna Schlein, Viceambasciatore d'Italia ad Atene ed attuale reggente dell'Istituto Italiano di Cultura e vorrei dare a tutti voi un caloroso benvenuto a questa nostra celebrazione virtuale della Giornata della Memoria. Non voglio rubare troppo tempo al resto del nostro programma, ma ci tengo a ricordare quale sia per noi il senso della giornata commemorativa del 27 gennaio. La Giornata della Memoria non è, non può essere soltanto un omaggio alle tante e troppe vittime dell'Olocausto, ma deve essere per tutti noi anche un momento di riflessione su una vicenda drammatica che ci riguarda tutti da vicino. La memoria storica della Shoah non può interessare soltanto la comunità ebraica nel mondo, ma interessa a tutti noi, l'umanità intera, perché da quanto è successo dobbiamo trarre tutti degli insegnamenti. Affinché il ricordo della Shoah sia utile in qualche modo, la memoria non può limitarsi allo sdegno, alla condanna morale dei crimini nazisti, sentimenti naturali ovviamente, ma che non bastano. Perché la memoria abbia un senso, dobbiamo sforzarci di comprendere, andare a fondo alla conoscenza per cercare di capire come sia stato possibile. La Giornata della memoria deve essere, cioè, un modo per noi anche di guardare al futuro affinché quanto è successo non possa mai più ripetersi. Never again, potek sana. Come ha ricordato Liliana Segre, senatrice a vita, sopravvissuta ai lager nazisti, che è stata una delle più impegnate testimoni della Shoah in Italia, coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenza a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Come ricordiamo noi oggi la giornata? Avremmo voluto farlo presentando per la prima volta il docudramma Gli allunni dell'Umberto I, un film che come istituto e come ambasciata abbiamo sostenuto con convinzione, dedicato alle vittime dell'olocausto in Grecia e in particolare a Salonicco, che è stato un centro storico dell'ebraismo sefardita, nel quale all'inizio del Novecento, ed è un caso più unico che raro credo, la comunità ebraica costituiva addirittura la maggioranza della popolazione. Quella comunità ebraica di Salonicco ha pagato un prezzo inimmaginabile all'olocausto. Più di 50.000, il 96% della comunità, sono state le persone deportate nei campi di concentramento e meno di mille quelle che riuscirono a tornare. Il film che presenteremo nei prossimi mesi ad Atene nasce dalla scoperta da parte di uno dei nostri dipendenti, il professor Antonio Crescenzi, di un archivio della scuola statale italiana Umberto I, che è stata attiva a Salonicco fino agli anni dell'occupazione nazista. Dentro questo archivio si trovarono temi, registri di classe, fotografie, domande di iscrizioni, esami, tutti i documenti che raccontano i sogni, le speranze, la quotidianità, ma anche naturalmente le paure, le inquietudini che i ragazzi vivevano in quegli anni tremendi. Da questa scoperta è nato il film, che per noi è un progetto estremamente importante, soprattutto dal punto di vista didattico ed educativo, perché contribuisce a coltivare quella cultura della memoria, a costruire quella conoscenza collettiva e condivisa di quello che è successo a Salonicco e nel resto della Grecia a migliaia di famiglie ebree, non in astratto, ma nella sua brutale concretezza. Come dicevo, avremmo voluto presentarvi questo film in anteprima in occasione della giornata della memoria del 2022, ma purtroppo non è stato possibile a causa della situazione pandemica in cui ci troviamo. La nostra celebrazione di oggi, tuttavia, vi darà un primo assaggio di quello che è stato rappresentato nel film. Assisterete infatti alla lettura da parte di alcuni degli attori del film, di alcuni dei temi svolti in classe dai ragazzi dell'Umberto I in quegli anni e di alcuni estratti di un diario che risale allo stesso periodo. Ad accompagnare queste letture ci sarà il maestro D'Aulas, al pianoforte, che eseguirà alcuni dei brani originali composti per la colonna sonora del film. Era per noi importante, anche se non è possibile quest'anno fare una tradizionale cerimonia, trovare il modo per celebrare la giornata della memoria anche quest'anno. E speriamo con questo video, in qualche modo, di porre un ulteriore tassello su questa via della memoria e della riflessione. A me non resta che ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa piccola celebrazione. Prima di tutti, naturalmente, Antonio Crescenzi, che ha ideato e organizzato il tutto, ma naturalmente anche la regista, Alessandra Maioletti, gli attori che si sono resi disponibili, il maestro D'Aulas e tutti i tecnici che hanno reso possibile questo video. Grazie a tutti voi anche e buona visione. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. The Darkest Moments In Human History A Docudrama By Alessandra Maioletti